E guardava a microfoni spenti il calendario e i risultati odierni? Qualche spunto? No, no, pura curiosità. Siamo agli inizi, penso alla mia squadra e gli altri, pura curiosità. Ancora è tantissimo lungo il viaggio, abbiamo preso un punto. Io non disdegno mai del punto. È normale che come si era messa la partita, siamo caduti nel trabocchetto della partita sporca sulle palle sparate e non abbiamo fatto il gioco nostro. Lì è stato, secondo me, l'errore della giornata. Secondo tempo, mister, sicuramente diverso rispetto al primo, anche perché la Roma City ha trovato il pari all'ottavo, quindi subito si poteva fare meglio in fase difensiva su quel pallone gestito da Battistoni. Due interventi non pulitissimi in area, poi il secondo pulito. Si può fare sempre meglio, Lorenzo. Abbiamo fatto tanti errori e tanti sbagli. Ci stanno sicuramente, anche come il centrocampista è andato via tranquillo sul tripling e tante cose. Siamo stati un po' superficiali, però ripeto, io intanto la voglio anche rivedere. Però, ripeto, quello che dico io è che questa è una squadra che deve solo giocare a calcio, come piace a me, come ci alleniamo. Se la metti a un punto di vista di impegno, anche chi è entrato anche al secondo tempo, da Di Santo, che i Damantini hanno fatto tutti bene, tranne Gianpaolo, che ha fatto la sciocchezza dell'espulsione. Ha vista bene lei, mister? No. Non l'ha vista bene? No, anche perché stavo giù in panchina, ho visto solo che uno era per terra. Non sapevo, pensavo che era, mi dicevano che era stato Belloni, invece è stato Gianpaolo. Una sciocchezza che ha fatto pagherà, pagherà la multa, perché lasciare in dieci compagni non è mai bello. Questa scelta di Gianpaolo non titolare si porta dietro qualche problemino rispetto a quello che ci raccontò lei prima della gara con la Fermana? Oppure ha voluto provare non solo Russo, Lialto, oppure rinforzare la fase di difensiva con Casella, Alessandretti e Ivari? No, no, Gianpaolo ha fatto un allenamento sabato e era deciso se convocarlo. Poi ieri mattina ha fatto qualcosa, mancava un quarto d'ora, ci siamo giocati la carta a Gianpaolo. Ma Gianpaolo non si sta allenando, c'è un fastidio perenne, se no Gianpaolo avrebbe giocato perché è un punto di forza di questa squadra. Però è obbligato a fare delle scelte perché poi non abbiamo neanche tanti under, di conseguenza quando fai un cambio non ne fai due. Parlare per parlare, ripeto, criticare anche per criticare, le scelte a volte sono obbligate, non le faccio. Io le faccio il medico Germano, il mio amico e Alessandro. Mister, nel primo tempo fraseggi al cospetto dell'area di rigore del Roma Seti che sono riusciti quasi tutti. Poi la ciliegina sulla torta, il fraseggio che ha portato al gol di Banegas. Nel secondo tempo perché non è riuscito? Forse anche un leggero calo fisico, mi è sembrato anche questo. No, no, la squadra sta bene fisicamente, è tutto un fatto di testa perché ti sei nervosito, perché l'arbitro anche lui come tutti noi a volte sbaglia, non ha saputo tenere in pugno la partita e siamo caduti nella trappola. Noi dobbiamo fare quel fraseggio perché è una squadra tecnica la nostra. Noi se ci mettiamo a mettere sulla rissa come oggi gli espulsi di Ammoniti sono i nostri, non degli altri. C'è stato un motivo perché questa è una squadra che io voglio che gioca a calcio, ma anche per le qualità tecniche di Banegas, di Cian Donato, di tutti quanti, di Misuraga. Se la mettiamo sull'aspetto fisico qualcosa possiamo mettere. Mister, parlava di nervosismo, parlava di garra, di cattiveria agonistica. Forse è questa la pozione magica per switchare, anche e soprattutto fuori casa. Perché poi tecnicamente i piedi sono quelli, fortunatamente per lei, e nulla si può contraddire. Però anche i tifosi chiedevano dagli spalti, dal loro settore, una risposta soprattutto a livello caratteriale. Io non ho visto una squadra che non ha lottato, attenzione. C'è una differenza tra dire che è una squadra tecnica e una squadra che non lotta. Io penso che noi è una squadra che lotta, che è anche aggressiva, perché noi anche al primo tempo loro hanno provato a giocare due volte e non giocavano perché eravamo messi a 90 metri dalla porta nostra. Poi hanno sempre lanciato la palla, infatti. Però io dico proprio che non è che ci manca la gara, è che non dobbiamo andare a giocare su palle lunghe, solo su palle lunghe, perché le caratteristiche nostre sono altre. E' quello, non dico che questa squadra è questa squadra, c'è gli attributi, questa squadra dà sempre tutto. Però è giusto che lo dia nel campo proprio, non nel campo altrui. E' questo che io rimprovero, ecco detto ai ragazzi. Mister, dando per scontato che fisicamente i suoi ragazzi stanno bene a livello mentale, è un bene per Giovanni Pagliari giocare tra tre giorni o preferiva attendere la settimana naturale, quella di domenica prossima? Ma guarda a me, Lorenzo, a me quello che mi fa ridere, adesso guardavo a tutti, qui c'è un'atmosfera strana, qui sembra che un pareggio sia... Una depressione generale. Una depressione totale, come la vittoria fosse una cosa scontata, come la vittoria che l'Aquila deve vincere tutte le domeniche. L'Aquila deve cercare di vincere alla fine. Forse però è più un appello ai tifosi, alla piazza. No, ma non è tifosi, i tifosi, quelli che stanno qui possono dire quello che pare, ma anche all'ambiente, all'ambiente in toto. Cioè, sembra che uno prende un punto, anche la frase tua, no? Dico, è meglio mercoledì, sembra che uno perdi, di solito si dice quando perdi, è meglio mercoledì. È un principio sbagliato, perché la media che si è tenuta, ci tenevamo a vincere come tutte le partite. Non è che abbiamo perso, perché perde, abbiamo fatto due buone trasferte, con due squadre forti, abbiamo preso due punti, adesso prepariamo mercoledì, però questo assillo e certezza che un pareggio è una mezza sconfitta, io devo essere sincero. A questo forse, mister, è anche colpa sua, perché se una squadra, se una società prende Giovanni Pagliari, ha una sorta di obbligo, diciamo, questa è colpa sua. Anche la reganatese ha preso Giovanni Pagliari, ma abbiamo vinto a maggio il campionato, non si vince adesso. Ripeto, i primi dispiaciuti che non si è vinto, però adesso si comincia. E il tabù trasferta, cioè a me mi viene... I miei numeri dicono questo, però poi ovviamente l'hai guardato. Sì, sì, anche perché i numeri hai fatto tre pareggi su quattro partite, magari vincirà la prossima e stai in media inglese perfetta sulle partite fuori casa. Ripeto, io non sono preoccupato, io sono... Per Di Aquilani questo è importante. Sì, no, io non sono preoccupato, la squadra ha fatto 10 punti, sta lì, dobbiamo seguitare a crescere, soprattutto con... La cosa più difficile su una squadra è la mentalità da trasmettere, no? La mentalità a evitare errori, anche alla fine abbiamo fatto un paio di errori che potevano essere suicidi. Cioè, delle cose che te lo dà anche la serenità e la consapevolezza di essere forte. Questa squadra ancora deve prendere, secondo me, la consapevolezza di essere forte e con il lavoro sono convinto, visto la serietà del gruppo Galleno, sono bravi ragazzi, penso che ci arriveremo.